Ciao a tutti cuoricini e benvenuti in questo mio primo video Allora, questo è il mio primo video e sarà un video molto corto Credo di un minuto o due, vabbè Comunque questo video sarà ovviamente il primo video, la presentazione Quindi iniziamo con la presentazione Ale, mi chiamo, mi chiamo Alessia Di cognome faccio a Bruce Ho 11 anni, ne ho ancora 10 però 11 anni faccio il 4 agosto Cioè, fra un po' Il mio collo preferito è giallo Allora i cavalli Ditemi se volete il video My followers control my life Io lo farò Allora, il video di oggi finisce qua Io spero vi sia piaciuto questo mini video Perché il primo video era la presentazione Quindi l'ho fatto Domani forse uscirà il My followers control my life Cioè i miei followers control nella mia vita per 24 ore Se non siete ancora iscritti al mio canale Iscrivetevi che vi sto soltanto cliccando il tasto Iscrivetevi e cliccare la campanella per sempre I giorni suoni e notifica E io vi mando un bacione grande E al prossimo video Ciao